E' partita la tensione nel tavolo di fuoco a Ripatroncione Tavolo di fuoco, Ripatroncione I ragazzi non hanno paura, quando ero piccolo, quando tornavamo a casa, non avevamo un vesico ancora buono E' l'ultimo, ieri sera io se lo li ero ufficiato, ha fatto un patto da fuoco e non dovevo... C'è l'accensione, stanno facendo aspettare il pubblico, lo sta eccitando, eccoli che parte Parte la prima parte Grazie Grazie Grazie